Salve amici del spazio, siamo qua davanti alla storia di Roma Est, sono circa le 15 e siamo già arrivati a 20.00. Se volete venire a trovarci per fare la fila con noi, per un saluto velocissimo, vi aspettano Gadget, un po' di serie team e poi tanti 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 amici con cui condividere la vostra esperienza nel mondo. Da Roma Est è tutto, un saluto, ci sentiamo che tanti per i giornalisti.